Ascoltate bene, siete a 5.000 miglia dalla terraferma. Scenderete per 7 miglia sul fondo dell'oceano. Ci rivedremo fra un mese. Ci siamo! E allora facciamolo come si deve! E allora facciamolo. Da 1 a 10. Quanto siamo messi male? 10! Abbiamo trivellato il fondo dell'oceano e non sappiamo cosa sia uscito. Andiamo alla stazione. Ma come faremo ad arrivarci? Camminando. Abbiamo poco ossigeno e vuoi camminare sul fondo dell'oceano. Non sappiamo che c'è fuori. La peggiore delle idee! Cos'era? Spegnete le luci. Cos'è? Cos'è? Che succede? No! Ci sta seguendo. Mi tira sott'acqua! Sapete quelli grandissimi attori non hanno mai ricevuto nemmeno un Oscar? Jim Carrey, ad esempio, attore davvero unico, mai neanche una nomination. Johnny Depp, nonostante varie nomination, non ha mai vinto. Bill Murray, un altro nome che vi posso fare, ha avuto solo una nomination per Lost in Translation. E Joaquin Phoenix, attore veramente eccezionale, mai niente. Però c'è tempo e non disperiamo. Ragazzi, ci trovate anche su TikTok, trovate il link qui sotto in info box. A presto! No? No? Grazie.